Ah! Che cosa ci faccio qui? È disgustoso! Non mi aiutate? Questo è esattamente quello che milioni di animali marini in tutto il mondo stanno provando. E non hanno sempre dei supereroi a offrirgli aiuto e a salvarli. Ok! Magari la plastica non è sempre così fantastica. In futuro accertati che i tuoi prodotti possano essere riutilizzati o riciclati e fatti con materiali biodegradabili. Avete ragione! Finora non avevo ben capito che cosa fosse l'inquinamento della plastica. Signor Bertrand, questo è un Magical Charm che l'aiuterà a ricordare il suo buon proposito. Ben fatto! Sì!